tecno casa studio monteluce buongiorno scusi cos'è uno scegli lingua no tecno casa studio monteluce tecno casa ha detto studio monteluce si ho capito e io veramente ho telefonato un'altra persona però cerco anche casa mi dica senta io avrei bisogno di un appartamento di 150 metri quadri diciamo in città e con doppi servizi possibile c'è qualcosa in giro qualcosina io attualmente nella zona di dove con diverse con diverse stanze camere anzi perché devo metterci delle signorini a lavorare ma lei lo cercherà fitto no 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 vorrei acquistarlo possibilmente se fosse conveniente insomma se trovo la possibilità di anche di pagamento anche perché insomma il lavoro poi queste signorine rendono molto no lavorano 24 ore su 24 insomma capisce insomma è una casa d'appuntamenti signora signorina sì sì la sento ecco tanto a voi non interessa la destinazione dell'immobile sicuramente io devo farci una casa l'appuntamento che vuol farne il proprietario a me non interessa no dai a lei basta di vendere no giusto sì sì sicuramente ecco c'è la possibilità di avere insomma qualcosa di grande si può trovare grazie almeno io ho fatto così a te luce non ho detto a occhi e croci 150 metri quadri ma insomma si può vedere insomma quello che c'è insomma io al momento di grande metratura no ho solo piccoli appartamenti per investimento ho capito magari occupati qualcuno libero qualcuno libero ecco più o meno ecco un appartamento piccolo quanto di quanti metri quadri quante stanza intorno ai 50 e 60 troppo piccolo io una decina di ragazze sa mi capisce non ci vuole un po di spazio no anche un po di privacy per i clienti no io se vuoi lasciarmi un recapito anche degli altri predati sì sì senz'altro le lascio casomai si può chiamarmi come no se mi capita qualcosa sicuramente io sono il signor bombardini prenda pure nota ecco il mio numero è aspetta quali 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 gli do le do le do le do il cellulare va bene sì d'accordo sì ecco allora tre 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 la bis che hai tu sede ha scritto ha scritto ha scritto buongiorno arrivederla ma no ma no non facciano non faccia così io sono tipo scherzoso insomma mi sente no 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 è così per dire sì dunque allora il numero in realtà è oie 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 c'ho un sacco di belle troie se ne è andata via come supponevo io lo supponevo io lo so proprio questa supposta in testa lo supponevo oie oie come va se non c'è il soldazzo stasera io mi ammazzo passerò per pazzo ma non mi porto ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo sto qui mi sollazzo non mi rompete